Di migranti ci vuole un controllo dell'Europa che sia reale, non quello che è certificato ancora una volta dalle carte. Oggi l'Europa ti dice, va bene, ti diamo un po' di soldi e te la sbrighi da te. Questo è quello che è accaduto... Oggi no, forse si è perso i giornali di oggi, ma noi siamo riusciti a correggere un trattato attraverso un impegno molto serio in Europa e dobbiamo forse dire grazie a questo governo e al Ministro Minniti, se le cose oggi che hanno le regole per fronte. C'è una nuova politica di Frontex che finalmente viene incontro a quello che abbiamo chiesto. Finalmente, quindi anche il Ministro Minniti riesce a realizzare ciò che era nella ragione più comune. Quello di dire... Quindi oggi facciamo un bel applauso a Minniti. Non è che facciamo un applauso a Minniti. No, non è che facciamo un applauso a Minniti. Siccome l'Europa ha paura, questo ormai si sa, ha paura delle forze di destra e populiste, ha paura dall'altra parte del Movimento 5 Stelle, finalmente capisce l'inganno originario e si rompe lo schema Frontex, quello schema che tutti avevano difeso. Ah, ma meno male che c'è Frontex, altrimenti sarebbe un casino allucinante. Bene, torna finalmente la regola del porto sicuro più vicino e cade l'obbligo assunto dall'Italia di accogliere tutti i migranti intercettati in mare. Questa è la regola di oggi, cioè quella che viene sovvertito. Per fortuna cade la regola di accettare e accogliere tutti i migranti. Guarda caso, guarda caso, era quella parte che ha consentito a Renzi di prendere una parte in più, quindi la flessibilità, di soldi dall'Europa, di andare in extra budget per gestire le questioni di bilancio. Che dicevano, siccome dobbiamo accoglierli tutti noi, allora ci date la possibilità di sporare. Voi cosa proponete però? Noi proponiamo che, diciamo, che questo tema da solo non ce la fai, perché è vero, i flussi migratori sono ingenti. Allora, l'Europa, faccia l'Europa, ma non che l'Europa ti lascia da sola, perché oggi ti lascia da sola l'Europa. Quindi propongono quello che abbiamo già fatto, non è la prima volta, devo dire. No, no, ma non... È facile fare i programmi su quello che gli altri hanno dovuto costruire. No, ma no, non è che l'avete fatto. Non è facile dire che erano taxi del mare e oggi dire che no. Avete predicato, avete predicato. Non l'abbiamo predicato. Guardi, quello non è un articolo che ho scritto io. No, ma esattamente... Oggi, dopo anni di fatica in Europa, c'è un governo che finalmente ottiene quello che voi dite non era possibile. Avete avuto i soldi. Oggi c'è un governo che ottiene quello che voi avete detto. Tant'è vero che sul programma non sapete più cosa scrivere, perché quello che avete scritto è già fatto. Inventatevi un programma nuovo. Ascari, voi avete preso in giro gli italiani, perché avete preso i soldi per gestire le politiche migratorie, avete fatto portare in Italia molti più migranti di quello che... L'ho scritto qua, di quello che servivano, quello che era giusto portare e quello che potevamo, come Italia, smaltire e gestire. Ne avete fatti arrivare molti di più, perché avevate preso molti più soldi. Noi abbiamo rispettato un trattato firmato da Berlusconi e nel frattempo abbiamo cercato di cambiarlo. Se lo vede Berlusconi, se lo vede Berlusconi, non è un problema mio. Oggi quel trattato finalmente, finalmente viene cambiato grazie alle politiche in questo governo. 30 secondi li abbiamo toccati. Quindi mettiamo agli atti che avete fatto arrivare in Italia molti più migranti... No, abbiamo rispettato le regole e siamo riusciti a cambiarle. No, 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 avete preso i soldi su questo. Voi avete preso i soldi per far arrivare in Italia molti più migranti di quelli che oggi, con questa revisione del trattato, si dice che effettivamente sono stati un po' troppi. Ma siccome vi servivano i soldi per arrivare i bonus, avete usato la leva delle politiche migratorie di cosiddetta accoglienza per far arrivare molti più migranti di quelli che sono stati. Paragone, noi abbiamo rispettato le regole che c'erano e abbiamo lavorato per cambiarle. Scusate, devo chiudere. Con se, 10 secondi per uno, Paragone, Youth Culture, sì o no?